In municipio è stato presentato il calendario delle qualificazioni e delle fasi finali dei campionati nazionali basket under 15 maschili e femminili. Giovanni Adami, presidente regionale del FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, illustra l'evento sportivo e gli aspetti innovativi della formula della competizione. Progetto sicuramente innovativo, maschi e femmini assieme non c'è mai stato, 16 squadre maschili e 16 femminili e soprattutto sparpagliate in tutti i capologhi di provincia. Per la prima fase, 5 giorni si giocherà Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, poi le finali e le semifinali solo qui a Pordenone al Forum. Quadruplicazione della forza lavoro necessaria, delle risorse, dei volontari, ma insomma siamo pronti. Abbiamo creduto fortemente nell'assegnazione di questa finale con questa formula, è la prima finale del post-Covid e quindi credo che ce lo meritiamo veramente di ripartire, di ospitare questa prima finale nazionale con questa prima formula e sarà una grande festa. Per l'assessore allo sport Walter De Bortoli, ospitare le fasi finali del torneo mette in evidenza la qualità degli impianti sportivi di Pordenone. È stata veramente una proposta accolta dal comune di Pordenone, ma non solo dal nostro comune, perché come sappiamo è un momento di straordinarietà. Perché? Perché dopo il Covid, la prima finale italiana che facciamo in Italia, di questa bellissima specialità che è il basket, quattro squadre femminili e quattro squadri maschili, il 4 di giugno si contenderanno il titolo italiano di Under 15 a Pordenone. Sulle nostre strutture che questa amministrazione ha sempre avuto con grande attenzione, non soltanto su queste, ma su tutte le strutture sportive di Pordenone. Dunque abbiamo strutture eccezionali, eccellenti, ben gestite e anche sanificate con il contributo che la regione ha voluto dare al coni che poi ci ha passato. Anche l'indotto economico turistico beneficia di questo evento. Lo chiarisce Gian Piero Zanolin, presidente dell'Associazione Federalberghi e al vertice della FIP, futuro insieme a Pallacanestro Pordenone. Quest'occasione delle finali nazionali sportive sono state anche promosse, anche per generare un indotto che va su tutto il territorio regionale e su tutti i quattro i capoluoghi. Perché ricordando che queste sono le prime finali a livello di età, comportano oltre alle 32 squadre con una media di 15 persone, e tutti gli accompagnatori, i genitori, i parenti che creeranno poi dopo un'occupazione buona sul nostro territorio.